utilizzare nel modo più giusto le risorse europee, io sono qui, ieri sera si è inaugurato il San Carlo restaurato, l'abbiamo restaurato con fonti regionali, sono 50 milioni di euro, e così con le periferie, la Campania è la regione più povera d'Italia, la spesa delle politiche sociali è la prima parli una volta per tutte queste questioni, basta di parlare di questa cultura che non la fa lei, la fanno gli artisti, lei ci mette solo il bollo e così nelle politiche sociali dove noi investiamo come sai il mondo, quanto più è possibile investiamo se queste si possono fare 3-4 cose, io ritengo giusto andare avanti anche al di là del pensiero di chi vorrebbe restare eventualmente ad ogni cosa